www.marizopoli.it Come sappiamo tenere i propri soldi, i propri denari sul conto corrente soprattutto in questi tempi di inflazione alta può portare delle perdite di denaro Una delle soluzioni per gestire il proprio denaro è la gestione patrimoniale Ma molti mi chiedono ma che cos'è questa gestione patrimoniale? Questa definizione di PICT, casa svizzera di investimento, ci dà dei piccoli suggerimenti La gestione patrimoniale è una forma di investimento in cui il cliente, il risparmiatore affida a una banca, a una società di gestione del risparmio il proprio denaro, il proprio risparmio perché lo gestisca tramite un consulente finanziario, un consulente patrimoniale Ma come funziona? Una volta individuata la società di gestione del risparmio o la banca a cui fidare i propri risparmi si chiariscono gli obiettivi, una volta chiariti gli obiettivi si identifica il profilo del cliente, dell'investitore e si definisce il portafoglio di investimento coerente col suo profilo e con il rischio in base agli obiettivi Nella fase di investimento poi, durante la quale il cliente, il risparmiatore può confrontarsi con il proprio consulente patrimoniale e finanziario e eventualmente modificarne la strategia Qui vi riporto poi il link all'articolo molto interessante su come gestire il proprio denaro E voi? Come state gestendo in questo periodo i vostri risparmi? Come li gestite? Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!